Al ventinovesimo dal nulla un lampo con giunta che pesca Zunno, gran controllo a seguire con il destro e sinistro sul secondo palo che non dà scampo a guadagno. È il settimo gol in stagione per il giocatore di proprietà della Cremonese, l'uomo più in forma del momento senza lo squalificato Emmausso e l'influenzato Plescia. A lui tutta la responsabilità del peso offensivo, quarto gol nelle ultime quattro partite per l'esterno Classi 2001.